Carissimi fratelli e sorelle, bentornati qui sul canale cristiano e viva Gesù. Anche oggi vi vogliamo proporre una bellissima epistola scritta da padre Pio il primo febbraio del 1913, indirizzata a padre Agostino da San Marco e Lamis. Gesù, uomo dei dolori, vorrebbe che tutti i cristiani limitassero. Ora Gesù questo calice l'offrì ancora a me, io l'accettai ed ecco perché non me ne risparmia. Il mio povero patire vale a nulla, ma pure Gesù se ne compiace perché in terra l'amò tanto. Quindi in certi giorni speciali in cui egli maggiormente soffrì su questa terra, mi fa sentire ancora più forte il suo patire. Ora non dovrebbe questo solamente bastare per umiliarmi e cercare di essere nascosto agli occhi degli uomini, perché sono stato fatto degno di patire con Gesù e come Gesù. Ah padre mio, la mia ingratitudine verso la maestà di Dio la sento in mi, esser troppo grande. Grazie per aver ascoltato con noi queste bellissime epistole di padre Pio, ti aspetto domani sempre qui sul canale cristiano e vi ho Gesù con altre splendide epistole oltre al vangelo del giorno e un miracolo ogni giorno. Se non l'hai fatto ancora iscriviti al canale, lascia un like di supporto, commenta e condividi. Grazie e buona giornata! Grazie. Grazie.